E' ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata all'interno di due ambulatori privati presenti nel territorio di Urbino di cui uno accreditato con il servizio sanitario regionale. Per questo i carabinieri della compagnia Urbinate hanno eseguito un'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di un medico specializzato in cardiologia. L'operazione rappresenta l'epilogo di un'articolata attività di indagine condotta dalle stazioni di Pian di Meleto e Sant'Angelo Invado e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino che ha permesso di svelare la commissione di diversi abusi sessuali. Si tratta di un'attività di indagine che ha riguardato almeno nove vittime. Stiamo conducendo ulteriori accertamenti per poter verificare se vi siano altre donne coinvolte in questa violenza di genere. Gli accertamenti sono iniziati nell'ottobre del 2018 quando una madre di una giovane ragazzina minorenne si è presentata presso la nostra stazione carabinieri per denunciare una visita inconsueta da parte di questo cardiologo. A seguito di questo episodio i carabinieri hanno immediatamente avviato delle attività investigative tradizionali ascoltando numerosi testimoni e tecniche per poter raccogliere ogni elemento indiziario utile a dimostrare la veridicità di quanto era stato segnalato. Il modus operandi del cardiologo era sempre lo stesso. Una volta fatta spogliare la donna e fatta accomodare nel lettino medico ed aver utilizzato le strumentazioni apposite per poter visitare persone con problemi di cuore venivano ovviamente le donne palpate nelle parti intime con la scusa di poter controllare la pressione femorale. Un lavoro delicato e certosino che ha permesso di raccogliere in totale nove denunce di donne per lo più di giovane età tra le quali compare anche una minore di 11 anni. Le donne visitate dopo un primo momento di sciocche e di imbarazzo regolarmente non erano in grado di reagire alla violenza subita. Questa appunto reazione che non avveniva sostanzialmente era dovuta al fatto che avevano una totale fiducia nello specialista. Per questo motivo l'uomo attualmente si trova agli arresti domiciliari accusato di violenza sessuale aggravata dalla propria posizione di medico in quanto abusando del proprio ruolo anche nei confronti di donne minorenni ha violato doveri connessi alla pubblica funzione esercitata approfittando tra l'altro dello stato di sofferenza di pazienti con malattie cardiache. Le indagini sono tuttora in corso con l'obiettivo di verificare se vi siano stati altri casi simili in passato. Le indagini sono ancora in corso e stiamo verificando se vi siano altre vittime che hanno subito queste violenze. Malgrado sia difficile raccontare episodi di questo genere cercheremo sicuramente di garantire l'anonimato e la riservatezza delle donne coinvolte.